Salve a tutti giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi torno a parlarvi ovviamente di The Book of Boba Fett, che con il debutto su Disney Plus ha posto le basi per tantissimi risvolti futuri e tante possibilità che potrebbero concretizzarsi all'interno dello show, dato che per il momento sembra essere ancora una tela bianca, perché tutte le potenziali sorprese ci sono state tenute nascoste, sia in questo primo episodio e sia soprattutto nei trailer e negli spot. Quello di cui voglio parlarvi oggi riguarda proprio un'ipotesi che reputo molto affascinante, ma allo stesso tempo molto remota, e cioè la possibile apparizione di Kira all'interno della serie. Se vi sembra una presenza improbabile e soprattutto se siete sorpresi da questo nome, nel video scoprirete quanto invece sarebbe consona la sua apparizione all'interno di questa serie TV. Ve ne parlo nel dettaglio dopo la sigla. Nel primo episodio di The Book of Boba Fett abbiamo potuto inquadrare più o meno quello che sarà uno dei villain della serie, e cioè il sindaco hitoriano Mokshayes, che ci è stato solo indirettamente presentato, e che probabilmente ha assoldato il gruppo di mercenari che hanno attaccato Boba Fett e Fennec Shand alla fine dell'episodio. Non serve che vi dica che si tratta ovviamente di un nemico abbastanza blando, e che sicuramente all'interno dei prossimi episodi Boba Fett dovrà vedersela con persone di un calibro un po' più alto. Come sappiamo egli dovrà concretizzare il suo potere di signore del crimine su Tatooine, e potrà farlo anche e soprattutto in base all'uoto di potere lasciato sul pianeta dalla morte di Jabba, e che a causa della caduta del clan degli Hutt, della quale vi parlerò in maniera dettagliata in un altro video, ha potuto permettere. Ovviamente la caduta di un clan così potente, di un'organizzazione così potente, non ha avuto effetti solamente su Tatooine, ma ha avuto degli effetti anche su altre porzioni della galassia, dove tantissime altre organizzazioni criminali hanno tentato o di appropriarsi delle ricchezze degli Hutt, oppure di farsi strada nel sottobosco criminale. E quindi probabile, e io mi auspico che sia così, che all'interno della serie potremmo vedere anche altre organizzazioni criminali importanti, come ad esempio il Sole Nero, o i Pike, o i Craymora, eccetera, che erano attive in quel periodo. E tra queste organizzazioni ovviamente c'è anche l'Alba Cremisi, che come saprete, se avete letto il crossover a fumetti War of the Bunty Hunters, ambientato tra Episodio 5 ed Episodio 6, in quegli anni era gestito proprio da Kira, personaggio interpretato da Emilia Clarke, che ci è stato introdotto in solo a Star Wars Story, e che abbiamo quindi rivisto all'interno dei fumetti, ambientati molti anni dopo le vicende presentate nello spin-off. All'interno di War of the Bunty Hunters, il personaggio di Kira giostra un evento molto importante, un evento che cambierà lo scacchiere galattico, e che sarà una delle cause che porterà alla caduta del cartello degli Hutt. Da questa miniserie crossover è nata un'altra serie a fumetti, totalmente dedicata all'Alba Cremisi e a Kira, e cioè Crimson Rain, della quale è uscito per il momento solamente il primo numero, ma che già si presenta come una narrazione pazzesca, una narrazione incredibile, che ci permetterà di capire che Kira e i suoi sottoposti saranno ancora molto importanti nello scacchiere galattico. Ovviamente non sappiamo dove andrà a parare Crimson Rain, anche se verso la fine del primo numero, è come se capissimo che l'Alba Cremisi avrà appunto una fine, perciò non sappiamo effettivamente se questa organizzazione sia ancora in piedi nel 9 ABY, e cioè nel presente in cui è ambientato The Book of Boba Fett. Ma chi ha letto i fumetti ovviamente si augura che sia così, perché lo scopo di Kira non è solamente quello di farsi un nome all'interno della galassia e di far crescere l'Alba Cremisi, ma è soprattutto un altro, che è legato a doppio filo con la figura di Palpatine e la figura dei Sith. Ovviamente non vi svelo nulla nel caso vogliate recuperare sia War of the Bunty Hunters che Crimson Rain, ma vi posso assicurare che si tratta di un progetto con un potenziale davvero incredibile. Queste opere non sono ancora arrivate in Italia, ma War of the Bunty Hunters arriverà il prossimo anno, e sicuramente nel corso del tempo sarà seguita anche da Crimson Rain. Ma torniamo un attimo a The Book of Boba Fett, perché un'apparizione di Kira sarebbe consona all'interno della serie? Qual è il legame tra questo personaggio e l'ex cacciatore di taglie? Molto semplice. Kira, sempre nella serie crossover a fumetti, ha fatto un torto a Boba Fett, rubandogli sotto il naso Han Solo congelato nella carbonite. E nonostante il cacciatore di taglie alla fine della miniserie sia riuscito a recuperare il blocco con Han Solo all'interno, sicuramente quell'onta di vergogna sarà rimasta, quella macchia all'interno della sua reputazione sarà rimasta. Ed è probabile che Boba Fett voglia vendicarsi in un modo o nell'altro anche di Kira. Stando ad alcuni rumors che sono trapelati prima dell'uscita della serie, all'interno di The Book of Boba Fett, il protagonista, oltre a consolidare il suo impero criminale, sarebbe andato anche alla ricerca di tutti i personaggi che nel passato gli avevano fatto un torto. E capite bene che in questo senso Kira potrà incastrarsi perfettamente all'interno delle vicende della serie, poiché, come vi dicevo, ha fatto a Boba Fett un torto molto grande. Si vocifera anche dell'apparizione di altri personaggi con cui Boba Fett potrebbe scontrarsi, come Cald Bane, come Bosk, come tanti altri cacciatori d'Italia leggendari. Ma è Kira potenzialmente il miglior perno narrativo, perché non solo la sua apparizione sarebbe consona per quanto riguarda le vendette di Boba Fett, ma potrebbe anche portarci degli sviluppi narrativi sull'Alba Cremisi e sulle questioni galattiche che il personaggio affronterà all'interno della serie a fumetti scritta da Charles Saul. Il ritorno di Kira, inoltre, potrebbe farne un personaggio importante e un perno fondamentale per tutte le vicende post-Hendor e soprattutto per tutte le vicende riguardanti le organizzazioni criminali che stanno cercando di farsi un nome all'interno della galassia sia dopo la caduta dell'Impero e sia soprattutto dopo la caduta degli Hutt. È come se non bastasse la sua apparizione, potrebbe fungere da simil sequel di Solo, un film che purtroppo non ha avuto le fortune che meritava e che è sicuramente degno di avere un seguito. Perciò, come è stato War of the Bounty Hunters, che è stato veramente un incontro pazzesco di personaggi in cui sono comparsi tantissimi cacciatori di taglie, la dottoressa Afra, Darth Vader, Leia, Luke e dove il perno di tutto era Han Solo, così potrebbe essere anche The Book of Boba Fett che con il ritorno di Kira potrebbe dare alla serie in primis un villain principale e soprattutto importante, potente e in secondo luogo fare da perno fondamentale per quelle che poi saranno tante altre vicende post-endor che magari potremo vedere anche nella terza stagione di The Mandalorian, nella serie TV Ahsoka e in altri prodotti futuri. Ovviamente per il momento, quello di cui vi ho parlato rimane un mio personale sogno nel cassetto, anche se ci sono state alcune flebili voci in merito a questa possibilità. Ma ovviamente non voglio illudervi in alcun modo, quindi il mio consiglio è quello di continuare ad approcciarsi alla serie The Book of Boba Fett lasciandosi sorprendere settimana per settimana e non aspettandosi ovviamente i grandi ritorni come può essere quello di Cad Bane, di Kira o addirittura come molti fan auspicano di Mace Windu, un qualcosa che sarebbe francamente ai limiti del trash. In questo modo quindi tutte le eventuali sorprese che ci verranno svelate durante queste settimane verranno ovviamente accolte molto positivamente, mentre le eventuali mancanze non peseranno alla visione. Ditemi nei commenti cosa ne pensate dell'apparizione di Kira e se vorreste vederla effettivamente all'interno di The Book of Boba Fett e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!